Oggi ti spiego come ha fatto questo mago, concorrente di Britain's Got Talent, a stupire i giudici tornando indietro nel tempo. Ma prima facciamo un piccolo riassunto della performance. Per prima cosa il mago si avvicina al tavolo dei giudici e mostra un mazzo di carte, all'interno del quale si trova una sola carta girata, poi chiede ad uno dei giudici di pensare ad una carta qualsiasi e gli dice che alla fine del gioco la carta che sta pensando proprio in quel momento sarà l'unica girata, poi distribuisce le carte ai giudici e gli chiede di mescolare casualmente, facce e controdursi. Fatto questo passaggio recupera tutte le carte e lascia il mazzo sul tavolo, dopodiché chiede ai giudici di tirare fuori dalle tasche i propri cellulari e di lasciarli sul tavolo con lo schermo rivolto verso il basso. Subito dopo mostra ancora una volta che tutte le carte sono mescolate casualmente e nel mentre chiede per la prima volta al giudice di dire a che carta stava pensando e lui risponde il 2 di quadri. Quindi il mago posiziona il mazzo di carte tra le mani di un altro giudice e dice che per risolvere tutto il caos che si è venuto a creare all'interno di quel mazzo bisogna tornare indietro nel tempo e chiede a un altro giudice di scegliere un numero compreso tra il 3 e il 10 e lei sceglie il numero 9. Allora il mago prende il suo cellulare e l'orario che si vede sullo schermo va indietro proprio di 9 minuti. Ma questo non è l'unico colpo di scena, infatti l'orario è cambiato anche sui cellulari dei giudici. Ma non solo, perché l'orario è tornato indietro nel tempo sui cellulari di tutte le persone presenti nello studio e qui il pubblico impazzisce, ma il gioco non è ancora finito perché il mago ricorda a tutti che il gioco è iniziato con una sola carta girata all'interno del mazzo e che se sono tutti veramente tornati indietro nel tempo allora anche le carte devono essere tornate come erano prima. Allora il mago prende le carte dalle mani della ragazza e mostra che sono tutte tornate in ordine e che l'unica carta girata è il 2 di quadri proprio la carta scelta e così il mago termina la performance tra gli applausi del pubblico. Allerta spoiler Ti ricordo che stai guardando Tutorial Magia Italia e che sto per darti la spiegazione di questi giochi quindi se non vuoi conoscere il segreto ti lascio 5 secondi di tempo per chiudere ma se anche tu come me concepisci la magia come un puzzle da risolvere puoi farmi compagnia fino alla fine. Prima di procedere con la spiegazione vera e propria possiamo fare alcune considerazioni da tenere a mente per dopo. La prima osservazione che possiamo fare è che il mago chiede ai giudici di mettere i propri cellulari sul tavolo con lo schermo coperto come se volesse che i giudici non potessero vedere l'orario fino alla fine del gioco. La seconda osservazione che possiamo fare è che il mago ad un certo punto ve lo faccio vedere al rallentatore mette le carte in tasca e le tira fuori subito dopo. Da questo possiamo dedurre che il mago ha scambiato quelle carte con un altro mazzo di carte che mette tra le mani della ragazza. Ma adesso iniziamo con la spiegazione che per comodità dividerò in due fasi. Nella prima vi spiego il gioco dei cellulari mentre nella seconda vi spiego il gioco con le carte. Cominciamo. Eccoci alla prima fase finalmente ti spiego come ha fatto questo mago a cambiare l'ora su tutti i telefoni presenti nello studio. Ma prima tu che stai guardando sì mi sto rivolgendo proprio a te se vuoi evitare che qualcuno ti entri nel cellulare proprio come è successo a loro ti consiglio di utilizzare NordVPN che è lo sponsor di questo video. Ma cos'è una VPN? Stiamo parlando di una rete virtuale privata che ti permette di navigare in sicurezza e io ve lo consiglio perché sono il primo ad utilizzarlo. Ho fatto tra l'altro di recente un video parlando di una mail che mi è arrivata con un link un po' sospetto e quando ho aperto quel link ho visto che nei commenti vi siete preoccupati per me. Ma io sono sempre tranquillo perché utilizzo NordVPN che mi protegge, anzi ci protegge dalle minacce online. Blocca siti pericolosi, tracker e pubblicità e tutela i nostri dati quando ci connettiamo a reti wifi pubbliche. Se ti protegge anche dai maghi questo non lo so ma con questo servizio puoi fare tante altre cose. I ragazzi di NordVPN sanno il fatto loro. Se per esempio dopo aver fatto i regali di Natale il tuo portafoglio somiglia al mio puoi risparmiare sui prezzi dei biglietti aerei e su tanti altri tipi di prenotazioni. Infatti puoi cambiare la tua posizione virtuale e metterla in un altro paese e con questo stratagemma puoi pagare gli stessi biglietti molto meno. Dimmi se anche questa non ti sembra una magia. Fatti furbo e clicca il link in descrizione o vai direttamente al link che vedi per avere uno sconto esclusivo più 4 mesi extra sui piani biennali di NordVPN e prova il piano plus per ottenere ad un prezzo speciale NordVPN più NordPass. Ragazzi voi lo sapete che se vi consiglio qualcosa è perché è utile. Date un'occhiata al link in descrizione. In questo modo supportate il canale così io sono più motivato a portarvi nuovi video e soprattutto facciamo vedere ad un'azienda seria che siamo uniti e che ha scelto il canale giusto con cui collaborare. Ma ora torniamo a noi. Questo gioco viene fatto utilizzando un'applicazione che si chiama Timeline ed è stata inventata dal mago Patrick Kuhn e si trova in vendita per più o meno 30 euro. Vi lascio il link in descrizione. Questa applicazione permette di cambiare l'orario e qui voglio essere chiaro può farlo solo sul telefono su cui viene scaricata. Innanzitutto come funziona questa applicazione? Ha un'interfaccia che simula la schermata di blocco del cellulare dopodiché si fa scegliere un numero allo spettatore. Si fanno di solito scegliere numeri piccoli più o meno compresi tra il 5 e il 10 per rendere il gioco più agevole e immediato. Dopodiché il numero scelto si può impostare con i tasti del volume praticamente quelli che si usano per abbassare e alzare il volume quando usiamo il cellulare. Oppure questo numero si può impostare direttamente con i numeri della schermata di blocco per farvi capire quelli in cui si inserisce il pin. Dopodiché l'applicazione fa tutto da sola aggiunge i numeri che sono stati selezionati all'orario reale e poi li scala ma lo fa in modo intelligente. Vi faccio direttamente un esempio così dovreste capirmi subito. Mettiamo caso che l'orario reale è lo stesso che si vede nella performance cioè le 5 e 37 e mettiamo caso che lo spettatore come è successo anche nella performance ci dice il numero 9 allora noi sull'applicazione impostiamo il numero 9 come si vede tranquillamente fare anche dal mago in questione che alza il cellulare clicca qualcosa e poi fa vedere il telefono. Comunque dicevo che cosa fa l'applicazione? L'applicazione aggiunge i minuti che sono stati scelti al numero reale in questo caso fa 5 e 37 più 9 minuti ottenendo come orario finale che viene visualizzato sullo schermo 5 e 46 dopodiché la stessa applicazione comincia a scalare i numeri che ha aggiunto tornando all'orario reale ovvero le 5 e 37 sostanzialmente ragazzi per non confondervi troppo le idee quei minuti sono stati aggiunti all'orario reale e successivamente tolti per mostrare di nuovo l'orario attuale ma qui una domanda sorge spontanea come fa l'orario ad essere cambiato sul telefono di tutti quanti sostanzialmente l'orario sul telefono di tutti presenti nello studio giudici compresi non è mai cambiato sono sempre state le 5 e 37 quello che ha fatto il mago è stato far mettere il cellulare dei quattro giudici con lo schermo rivolto verso il basso sul tavolo per far sì che loro non fossero in grado di controllare qual era l'orario reale durante il gioco infatti quando il gioco finisce e possono controllare i loro cellulari l'applicazione ormai è tornata indietro all'orario reale perché ve lo ripeto un'ultima volta per essere quanto più chiaro possibile l'orario vero non è mai stato questo non sono mai state le 5 e 46 ma sono sempre state le 5 e 37 e ovviamente essendo questo l'orario reale è anche l'orario che tutti i presenti vedevano sul proprio cellulare e adesso voi potreste farmi una domanda che è la seguente è mai possibile che qualcuno tra il pubblico non sia accorto che l'orario non è mai cambiato io credo che sicuramente qualcuno se ne sia accorto però non tutti penso che la maggior parte di loro stava semplicemente guardando l'esibizione tra l'altro vi do una piccola curiosità questa applicazione è la stessa che ha utilizzato il mago Stefano bronzato per fare lo stesso gioco durante le audizioni di Italia's Got Talent e quando ve l'ho spiegato ho visto un po' di confusione nei commenti quindi questa volta ho deciso di dedicarci un po' più di tempo eccoci arrivati alla fase 2 per spiegare questo gioco con le carte dobbiamo partire da un presupposto il presupposto è che durante l'esibizione viene fatto uno scambio che cosa voglio dire con questo voglio dire che il mago inizia con un mazzo di carte normale che fa anche mescolare ai giudici e poi ad un certo punto mette quelle carte in tasca e tira fuori un altro mazzo di carte vi faccio rivedere anche il momento esatto in cui avviene lo scambio la domanda che potreste farmi adesso è cosa tira fuori dalla tasca dopo aver fatto questo scambio allora si tratta di un mazzo di carte truccato che si chiama mazzo invisibile è usato dai maghi di tutto il mondo ed è veramente un mazzo di carte con un segreto incredibile si trova in tutti i negozi di magia e vi lascio il link in descrizione per acquistarlo non costa neanche tanto adesso vi spiego cos'è e come si usa qui però dovete starmi un attimo dietro si tratta di un mazzo di carte dove tutti i dorsi sono stati trattati con uno spray che ne aumenta l'aderenza dopodiché queste carte vengono attaccate a due a due di dorso quindi se io adesso apro queste carte sembrano delle carte normali ma in realtà ogni carta è una coppia di due carte quindi praticamente dietro ad ogni carta di faccia ce n'è una di dorso di solito si mettono da un lato tutte le carte pari e poi se giro dall'altro lato ci stanno tutte le carte dispari e ovviamente si può mostrare metà mazzo di carte alla volta qual è la cosa però veramente interessante di questo mazzo la cosa interessante è che se io applico abbastanza forza tra le carte quindi le spingo bene si vede che sono alternate quindi sostanzialmente si vedono le carte dietro mentre se le faccio scorrere tranquillamente tra di loro le vediamo di nuovo in ordine perché tutte le carte dietro vengono nascoste e questo è il principio con cui viene fatto il gioco ricapitolando il mago dà un mazzo di carte normale ai giudici e lo fa mescolare poi lo mette in tasca e tira fuori il mazzo di carte invisibile fa vedere che le carte sono ancora mescolate perché applica abbastanza frizione da far vedere le carte nascoste infatti se ci fate caso se rivediamo il video più lentamente si vede che le carte non sono veramente mescolate casualmente ma sono alternate facce e dorsi dopodiché comunque il mago mette il mazzo di carte invisibile tra le mani della ragazza e una volta che conosce la carta scelta in questo caso il 2 di quadri riprende il mazzo di carte e orientandolo dalla parte giusta fa scorrere liberamente tutte le carte e va a separare solo il 2 di quadri in questo modo da davanti sembra l'unica carta girata e giusto per essere precisi queste carte con cui il mago conclude il gioco non vengono mai controllate dai giudici vi ringrazio della visione se questo video vi è piaciuto vi chiedo di mettere mi piace di scrivervi e di condividerlo cosicché quante più persone possibili riescano a vederlo tutto questo mi motiverà a portare video più frequentemente io a questo punto vi saluto vi abbraccio vi mando un bacio e noi ci vediamo ad un prossimo video vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto